Che le primarie del centro-sinistra a Stigiano si terranno domenica 22 gennaio, ormai chiaro a tutti, forse un po' meno chiaro sono le modalità di votazione, come e dove si potrà scegliere il candidato a sindaco della coalizione e soprattutto chi potrà accedere ai seggi. Per fugare ogni dubbio a Palazzo Civico, in Piazza San Secondo, Carlo Gentile, presidente del Comitato Organizzativo Primarie Asti 2012 e i candidati del centro-sinistra, ossia Fabrizio Brignolo, Anna Bosia e Massimo Campaner, hanno offerto qualche pratica a linea guida sul voto alle primarie. All'appello mancava solo Alberto Pasta. Innanzitutto è stato chiarito che tutti i cittadini residenti ad Asti potranno scegliere il candidato e senza l'obbligo di iscrizione ad un partito. Potranno presentarsi ai seggi gli elettori a partire dai 16 anni e si pagherà la cifra di un euro. In tutta la città saranno presenti in punti strategici i seggi aperti dalle 8 del mattino fino alle 20 di sera. Ci saranno 24 seggi di cui 23 statici, quindi riferimenti fisici, per ogni macroquartiere della città e le frazioni delle ventine. Saremo presenti nelle frazioni di Sessante, Seravalle, Monbarone, Quarto, Valenzani, Varindie, Palucco, Vaglierano e Ravignano, San Marzanotto, Valle Tanero, Valmanera, Via Tosto, Porta Comaro, Stazione, Monte Marzo e Casa Bianca. Rivendico con particolare orgoglio il seggio itinerante. È stata una scommessa questa da parte del comitato organizzativo copreseduto perché daremo la possibilità di votare a domicilio per le persone in possibilità di recarsi i seggi, quindi disabili, persone ammalate. Nella storia della nostra città questa è la prima corsa alle primarie in vista di una tornata amministrativa. Su un totale di circa 45.000 elettori si auspica un'affluenza di almeno 2.300 persone. Consapevoli della sfiducia dell'elettorato nei confronti della politica in generale, per i quattro candidati le primarie saranno il vero banco di prova che precede la grande corsa di primavera. Uno strumento oltre che di democrazia diretta che permetterà di tastare il polso di un'asti piegata dalla crisi.